Il quarto e ultimo gruppo degli integratori alimentari che affrontiamo in questa terza rubrica è il gruppo D, ovvero il gruppo di quegli integratori vietati o ad alto rischio di contaminazione con sostanze dopanti. E questo è un tema, è un gruppo a cui fare veramente molta molta attenzione sia per chi fa sport, sia per chi si occupa di sport e dell'integrazione degli sportivi. Tra queste sostanze compaiono gli stimolanti e attenzione anche agli stimolanti erboristici, quindi facciamo veramente molta attenzione a che tipo di sostanze andiamo ad acquistare. Abbiamo poi i precursori ormonali o i promotori ormonali, come il più famoso di tutti è il promotore del testosterone. Abbiamo poi i peptidi e quelli che rilasciano l'ormone della crescita e facciamo anche qui attenzione perché sebbene siano delle sostanze che spesso vengono vendute come integratori, da un punto di vista tecnico non sono degli integratori ma sono delle sostanze farmacologiche non approvate. Abbiamo poi i beta 2 antagonisti e anche altre sostanze come ad esempio il glicerolo che spesso viene utilizzato come tecnica di reidratazione o iperidratazione ma che in realtà può avere una contaminazione con sostanze dopanti o contenere addirittura delle sostanze dopanti all'interno della formulazione del prodotto. Quindi facciamo veramente molta molta attenzione soprattutto in ambito sportivo a che tipo di integratori andiamo ad acquistare e ad assumere.